buongiorno a tutti benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 20 gennaio 2017 questa è la resegna che si chiama occhio ai giornali occhio ai giornali che va in onda da lunedì al sabato tutte le mattine in diretta alle 7.30 cominciamo dal santo di oggi il santo del giorno è san sebastiano martire il sole è sorto alle 7.35 tramonterà le 17.03 le previsioni del tempo il bollettino della protezione civile delle marche prevede per oggi nella regione marche un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne le temperature in aumento nei valori massimi in diminuzione invece nei valori minimi venti di brezza tesa da nord occidentali a tratti moderati lungo la fascia costiera per la giornata di domani sabato 21 gennaio le precipitazioni saranno possibili anche se deboli e isolate con nevicate nelle zone della montagna in particolare a sud con accumuli poco significativi le temperature sono in aumento i venti di brezza tesa settentrionali in rotazione da est in serate il mare sarà poco mosso per domenica 22 gennaio non c'è molto da dire se non che il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso le temperature saranno in aumento i venti di brezza tesa orientali e il mare sarà poco mosso la generale stabilizzazione della situazione meteorologica ad eccezione dell'inizio di settimana prossima saranno probabiliti saranno deboli fenomeni di precipitazione quindi tempo perturbato all'inizio della prossima settimana titolo d'apertura del corriere adriatico i nostri sepolti vivi sette marchigiani sono dispersi nell'hotel abruzzese cancellato da una valanga sei di loro erano in vacanza l'altro invece è un dipendente dell'hotel il sindaco castelli promesse disattese saltano i comuni sismologo tondi dice non si può escludere che ci sia una nuova scossa ancora più forte di quella che abbiamo sentito nei giorni scorsi gli allevatori irriducibili tra la neve e il terremoto stiamo con le bestie non non li abbandoniamo poi l'ultimo sms di paola che dice partiamo l'ultimo messaggio di paola tomassini 46 anni di montalto dispersa insieme al suo fidanzato marco vagnarelli rassicurava gli amici siamo in attese di partire ha scritto e da quel momento della copia non si è più saputo nulla lei lavora in un autogrill a campo filone est sulla 14 lui invece di castignano è un dipendente della whirlpool e questa è la prima pagina del corriere adriatico entriamo nelle in quelle interne sette marchigiani dispersi nell'hotel sepolto dalla neve tra gli ospiti anche una coppia di osimo con il figlioletto due fidanzati di castignano e un pilota d'aereo di macerata sotto le macerie anche un ragazzo di pioraco che lavorava come ha detto alla reception nella spa sul gran sasso e questo è il il grafico con tutto ciò che è accaduto con i numeri di questo hotel rigopiano che si trovava e si trova ancora a 1200 metri sul livello del mare vedete nella cartina firandola e questo è ciò che è successo questa ondata di materiale che ha spostato addirittura il corpo principale dell'hotel di almeno 10 metri la struttura è franata sulla piscina sulla spa ed è scesa dunque giù di 10 metri si è staccata la valanga dal monte siella sovrastante la struttura a causa delle scosse di terremoto che si sono sentite avvertite ci sono state mercoledì ceriscioli il presidente della regione Marche in ansia emergenze da mesi questa è certamente la più la più pesante la più pesante di tutti l'odissea dei soccorritori qualsiasi non c'è più niente raccontano dopo aver impiegato 20 ore per arrivare praticamente a piedi quasi all'hotel rigopiano è un viaggio che è partito dalla dalla sera ed è arrivato appunto dopo sono arrivati dopo tante ore e quando finalmente sono arrivati la sua 1200 metri molti sono scoppiati in lacrime 20 ore di fatica bestiale arrancando tra i muri di neve e un vento gelido per trovare un pugno di macerie vigili del fuoco poliziotti carabinieri uomini del soccorso alpino e della guardia di finanza medici paramedici volontari della protezione civile hanno impiegato una notte intera per raggiungere l'hotel rigopiano il loro viaggio è cominciato verso le 18 di mercoledì quando l'allarme lanciato da giampiero parete uno dei due sopravvissuti è arrivato nelle centrali operative poi sappiamo tutti quali sono le polemiche sui ritardi sul fatto che per esempio nemmeno è stato creduto all'inizio quando c'è stata la prima telefonata insomma ci sono pesanti polemiche ma adesso non è il tempo delle polemiche è il tempo che non c'è che manca quello di scavare di trovare il più se possibile qualcuno ancora in vita là sotto sono saliti a piedi con le pelli di foca sugli sci sotto una bufera di neve ma c'erano soltanto macerie dal ancora dal Corriere Adriatico adesso la pagina delle fotografie quella dei ricordi di chi c'era in quel in quell'albergo per esempio questa famiglia composta da tre persone che sognava relax marina serraiocco e domenico di michelangelo sono partiti da osimo con il figlio samuel di sette anni un poliziotto al commissariato di osimo lei commerciante di corso mazzini con un domenica scorsa la città è in ansia per la sorte di un'intera famiglia nativa di chieti ma osimana d'adozione e residente a san paterniano e poi il geometra il geometra bomber che amava che ama la montagna marco vagnarelli dipendente della whirlpool era con la compagna marco 44 anni aspettava di andare in vacanza per godersi con la fidanzata paola due giorni di relax e la montagna infatti una delle sue passioni montagna che quotidianamente aveva l'orizzonte nello stabilimento di villa per di comunanza della whirlpool dove lavora ormai da parecchi da parecchi anni poi dicevamo l'ultimo sms di paola in attesa scrive lei di partire i familiari sono in attesa di notizie la coppia doveva rientrare su facebook eccola lì paola tomassini 46 anni tra le persone disperse insieme al suo finanzato marco vagnarelli all'hotel rigopiano di firandola farindola scusate travolto da una slavina e l'altra pagina sempre del corriere adriatico marco pilota della rain air innamorato della sua jessica primo ufficiale a 25 anni finanzato da sempre con la giovane aubruzzese e tra i dispersi c'è anche lui questo 25 anni nato a macerata è originario di selva selva lagni frazione di gagliole dal 2002 residente nella vicina castel raimondo nel paese tutti conoscono il suo viso pulito magnetico con quell'inconfondibile tratto asiatico ereditate dalla mamma cinese ma radicata nel macerattese da 26 anni finite le le medie il giovane ha lasciato questo borgo per seguire il sogno di diventare un pilota e c'è riuscito perché marco è pilota della rain air e poi emanuele emanuele il receptionist qui la neve bellissima dice una laurea in marketing un fisico da modello ma lui ha scelto rigopiano emanuele bonifazi con barbara d'urso che una cliente vip del dell'albergo che ora non c'è più emanuele bonifazi 31 anni ed era ed è dipendente di quella di quell'albergo entriamo adesso nelle pagine interne quelle locali adesso apriamo la pagina di fano del corriere adriatico e in primo piano c'è la vicenda che ha coinvolto l'ex sindaco di fano ed ex parlamentare euro parlamentare francesco baldarelli finito sotto indagine dai fiamme gialle per un'attività che svolge all'aquila dopo il terremoto per baldarelli accusa assurda speriamo non sia disegno politico l'ex sindaco adesso si trova all'estero parla il suo avvocato giulio agnelli l'ex parlamentare avrebbe spinto con mezzi fraudolenti in vitalia ad erogare contributi paura per il sisma i figli più figli più bravi dei genitori il dirigente a dare i plaude al comportamento degli alunni mirisola invece chiede una commissione questo per quanto riguarda ciò che è successo il giorno in cui si sono sentite le scosse di terremoto il giorno in cui c'è stato del caos del panico dove i genitori si sono precipitati nelle scuole per prendere i figli generando più confusione che altro i figli tutti tranquilli i più agitati erano i genitori che poi di conseguenza hanno agitato anche con la loro testimonianza con il loro modo di fare hanno agitato anche i figli e tutta la situazione ma la fede e pressa pochismo la politica siamo sempre sulla pagina di fano la politica affossa l'aeroporto parole di fuoco da parte di aguzzi stessa linea per gli altri consiglieri bilancio 2016 rosso da 100 mila euro colpo di scena dal computer di ruggeri i dati potranno essere comunque recuperati troppo freddo la caritas sta finendo le scorte strutture al completo serve vestiario pesante molti dormono all'aperto allora attenzione perché servono appunto queste 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 cose quindi se avete del vestiario in più se dovete se avete un armadio che ormai di cose che non sapete più che fare oppure volete anche comprarne delle nuove magari di quelle che costano poco ma che servono ecco sappiate che la caritas ha bisogno carnevalesca piccola perdita e grande attesa per le tre sfilate questa sera assemblea assemblea e relazione della presidente l'anno scorso fu un affare da mezzo milione tra le entrate 257 mila euro di contributi 88 mila dagli sponsor perdite ridotte a quasi 9 mila euro e poi c'è la commedia dialettale oggi domani e domenica e il paradiso non è per tutti il paradiso non è per tutti debutta la sala verdi al teatro della fortuna è un appuntamento che appunto c'è in questi tre giorni lo spettacolo sarà presentato oggi e domani alle 21 mentre domenica anche alle 5 del pomeriggio e poi anche alle 9 di sera dalla valle del cesano grande paura per questo fuoco che ha coinvolto tra l'altro con un fumo piuttosto vistoso con una colonna di fumo nera densa molto molto vistosa garage a fuoco fumo in tutta la zona scintilla della stufa scatena un rogo a san fortunato siamo a san costanzo due dense colonne nere hanno avvolto la frazione del paese sul posto due camion dei vigili leggermente intossicato il proprietario distrutta un'auto transennata un'intera area le immagini se volete le potete vedere anche sul nostro telegiornale in onda in replica alle 11 e alle 13 e 30 poi danni da quantificare ho provato con i miei estintori ma c'era troppo vento in quel momento e quindi non sono riuscito dice il proprietario a spegnere a spegnere l'incendio chirurgia parliamo di sanità a pergola il primario ha firmato l'annuncio lo ha dato dalla regione marche minardi il dottor gamma rota sarà operativo a breve meno di un mese ed entrerà dunque in servizio il nuovo primario di chirurgia all'ospedale di pergola finalmente dopo circa due anni di attesa l'ospedale avrà il suo nuovo primario si chiama appunto francesco vittorio gammarotta prenderà servizio nel reparto di chirurgia del nosocomio santi carlo e donnino a partire dal 16 di febbraio andiamo alla sulla pagina di urbino per no alla fan urbino spezzatino contro rfi la rete ferrovie italiana si mobilita la regione biancani l'assessore dice la tratta deve essere deve rimanere intatta il governatore chiede un incontro urgente però da quanto pare a quanto pare sembra che già questo primo tratto sia stato venduto la società vuole alienare un immobile nelle vicinanze della stazione fanese fossombrone fossombrone recupera l'altare di san filippo l'architetto luzzi ma bisogna dice ragionare sull'uso di questo luogo poi ancora andiamo sulle pagine adesso sull'altra pagina sull'altro giornale il resto del carlino il titolo è per banca marca eccola qua la foto notizia in 18 per un crack addio banca marca chiuse le indagini a giudizio bianconi i vertici ed alcuni dirigenti sotto invece la testata il parcheggio è atteso da mesi parliamo di degrado nel comune di pesero guardate una serie di crateri nell'area dove c'è questo parcheggio dietro la stazione il comune doveva sistemare la zona per i pendolari ma non è successo nulla l'area dunque resta piena di buche Cordella lo vedremo tra poco patteggia la prima bancarotta Fano l'ex patron di Chebolletta a giudizio mancavano 6 milioni di euro allora andiamo subito sulla pagina di Fano ripartiamo da qui Cordella Cordella che è l'imprenditore fanese di 48 anni che deve ancora rispondere di altri reatti fiscali ha chiuso un conto ma non esce ancora di scena Stefano Cordella ha patteggiato ieri mattina una pena a tre anni di reclusione per la bancarotta fraudolenta da 6 milioni di euro che a maggio scorso lo aveva fatto finire dietro le sbarre del carcere di Villa Fastigi per il noto imprenditore di 48 anni patron di svariate società di fornitura elettrica e gas oltre che di pubblicità la partita con la giustizia però non è la partita è ancora aperta dunque non è chiusa l'articolo è di Elisabetta Rossi Carnevale ecco che cosa accadrà quest'anno addio allo slogan bello da vedere dolce da gustare il Carnevale di Fano 2017 punta sulla creatività made in Italy Baldarelli eccolo qua l'intervista a Baldarelli che dice sono tranquillo non so di che cosa mi accusano l'ex sindaco ha un'azienda all'Aquila di cosa sono esattamente accusato onestamente non lo so dice lui e spero che i giudici del Tribunale dell'Aquila mi chiamino presto dice Baldarelli 61 anni ex sindaco della città di Fano dal 90 al 92 quindi euro parlamentare dal 94 al 99 e successivamente in carica il Ministero dell'Agricoltura dove ha ricoperto il ruolo di subcommissario dell'Unire Corse e Cavalli fino al 2005 e quindi qui c'è tutta c'è questa intervista che il giornale che Maurizio Gennari ha realizzato con Francesco Baldarelli appunto la cronaca da Petriano dipendente dell'ospedale muore alla guida Gilberto Fabrizioli di 62 anni stava tornando a casa il cordoglio degli amici e dei colleghi è morto l'addetto alla portineria dell'ospedale di Urbino un volto molto conosciuto e apprezzato nella comunità ospedaliera per il ruolo che ricopriva nella sanità pubblica prima in farmacia poi all'accoglienza all'ingresso dell'ospedale rientra l'allerta maltempo a Urbino invece strade libere, Gambini, il sindaco le vie sono state tutte pulite in tempi rapidi nonostante la rottura di due mezzi questa è la situazione di ieri a Urbino appena si torna alla normalità arriva il conto esalato dei danni la viabilità è ripristinata ma ora c'è da pagare ci sono da pagare certamente anche le ditte che hanno lavorato per ripulire sgomberare le vie e le strade dalla neve sulla Fano Urbino la tratta ormai dismessa da moltissimi anni ma che comunque potrebbe essere riattivata tratta ferroviaria che collega appunto la città di Fano con quella di Urbino e viceversa Biancani niente spezzatino si insiste presso le ferrovie per la tutela della tratta direi che possiamo fermarci qui non c'è altro da aggiungere per quanto riguarda ah no c'è una storia l'ho lasciata per ultima in realtà ma è una storia che vale la pena assolutamente leggere una storia di vita pubblicata sul resto del carino di questa mattina ho bisogno di un lavoro per ridare la vista a mia figlia che è malata appello di un padre che ha donato i suoi tessuti il padre lo vedete questo signore nella fotografia Luigi Biagetti ha 49 anni e lotta per la figlia lo Stato sostiene i rifugiati dice ma non paga medicine e interventi per la mia Lara non chiedo elemosina ma dignità e un impegno Davide Eusebi ha raccolto questa storia l'ha valutata e quindi ha deciso di pubblicarla sul giornale di questa mattina sono stato più volte in comune dice lui a Pesero una umiliazione che non ha portato però a nulla lavorando potrei pagare le cure che servono per ridarle una speranza ed è questo signore pronto a tutto allora l'appello è se qualcuno ha mi rendo conto dei problemi e delle difficoltà di questo momento che ormai dura da diversi anni però se qualcuno ha un lavoro per questo signore che deve curare la figlia si faccia sentire è tutto grazie per averci seguito buona giornata ci vediamo stasera alle 20 e 30 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 20 gennaio 2017 questa è la rassegna che si chiama Occhio ai giornali Occhio ai giornali che va in onda da lunedì al sabato tutte le mattine in diretta alle 7.30 cominciamo dal santo di oggi il santo del giorno è San Sebastiano Martire il sole sorto alle 7.35 e tramonterà alle 17.03 le previsioni del tempo il bollettino della protezione civile delle Marche prevede per oggi nella regione Marche un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne le temperature in aumento nei valori massimi in diminuzione invece nei valori minimi venti di brezza tesa da nord occidentali a tratti moderati lungo la fascia costiera per la giornata di domani sabato 21 gennaio le precipitazioni saranno possibili anche se deboli e isolate con nevicate nelle zone della montagna in particolare a sud con accumuli poco significativi le temperature sono in aumento i venti di brezza tesa settentrionali in rotazione da est in serata il mare sarà poco mosso per domenica 22 gennaio non c'è molto da dire se non che il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso le temperature saranno in aumento eventi di brezza tesa orientali e il mare sarà poco mosso la generale stabilizzazione della situazione meteorologica ad eccezione dell'inizio di settimana prossima ci saranno deboli fenomeni di precipitazione quindi tempo perturbato all'inizio della prossima settimana titolo d'apertura del Corriere Adriatico i nostri sepolti vivi sette marchigiani sono dispersi nell'hotel abruzzese cancellato da una valanga sei di loro erano in vacanza l'altro invece è un dipendente dell'hotel il sindaco Castelli promesse disattese saltano i comuni il sismologo Tondi dice non si può escludere che ci sia una nuova scossa ancora più forte di quella che abbiamo sentito nei giorni scorsi gli allevatori irriducibili tra la neve e il terremoto stiamo con le bestie non li abbandoniamo poi l'ultimo sms di Paola che dice partiamo l'ultimo messaggio di Paola Tomassini 46 anni di Montalto dispersa insieme al suo fidanzato Marco Vagnarelli rassicurava gli amici siamo in attese di partire ha scritto e da quel momento della copia non si è più saputo nulla lei lavora in un autogrill a Campofilone Est sulla 14 lui invece di Castignano è un dipendente della Whirlpool e questa è la prima pagina del Corriere Adriatico entriamo in quelle interne sette marchigiani dispersi nell'hotel sepolto dalla neve tra gli ospiti anche una coppia di Osimo con il figlioletto due fidanzati di Castignano e un pilota d'aereo di Macerata sotto le macerie anche un ragazzo di Pioraco che lavorava come ha detto alla reception nella spa sul Gran Sasso e questo è il grafico con tutto ciò che è accaduto con i numeri di questo hotel Rigopiano che si trovava e si trova ancora a 1200 metri sul livello del mare vedete nella cartina a Firandola e questo è ciò che è successo questa ondata di materiale che ha spostato addirittura il corpo principale dell'hotel di almeno 10 metri la struttura è franata sulla piscina sulla spa ed è scesa dunque giù di 10 metri si è staccata la valanga dal Monte Siella sovrastante la struttura a causa delle scosse di terremoto che si sono sentite avvertite ci sono state mercoledì Ceriscioli il Presidente della Regione Marche in ansia emergenze da mesi questa è certamente la più pesante la più pesante di tutti l'odissea dei soccorritori quassù non c'è più niente raccontano dopo aver impiegato 20 ore per arrivare praticamente a piedi quasi all'hotel Rigopiano è un viaggio che è partito dalla sera ed è arrivato appunto dopo sono arrivati dopo tante ore e quando finalmente sono arrivati la sua 1200 metri molti sono scoppiati in lacrime 20 ore di fatica bestiale arrancando tra i muri di neve e un vento gelido per trovare un pugno di macerie vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri uomini del soccorso alpino e della guardia di finanza medici, paramedici i volontari della protezione civile hanno impiegato una notte intera per raggiungere l'hotel Rigopiano il loro viaggio è cominciato verso le 18 di mercoledì quando l'allarme lanciato da Giampiero Parete uno dei due sopravvissuti è arrivato nelle centrali operative poi sappiamo tutti quali sono le polemiche sui ritardi sul fatto che per esempio nemmeno è stato creduto all'inizio quando c'è stata la prima telefonata insomma ci sono pesanti polemiche ma adesso non è il tempo delle polemiche è il tempo che non c'è che manca quello di scavare di trovare il più se possibile qualcuno ancora in vita là sotto sono saliti a piedi con le pelli di foca sugli sci sotto una bufera di neve ma c'erano soltanto macerie ancora dal Corriere Adriatico adesso la pagina delle fotografie quella dei ricordi di chi c'era in quell'albergo per esempio questa famiglia composta da tre persone che sognava relax Marina Serraiocco e Domenico di Michelangelo sono partiti da Osimo con il figlio Samuel di sette anni un poliziotto al commissariato di Osimo lei commerciante di Corso Mazzini con un bimbo di sette anni festeggiati appena domenica scorsa la città è in ansia per la sorte di un'intera famiglia nativa di Chieti ma osimana d'adozione e residente a San Paterniano e poi il geometra il geometra Bomber che amava che ama la montagna Marco Vagnarelli dipendente della Whirlpool era con la compagna Marco 44 anni aspettava di andare in vacanza per godersi con la fidanzata Paola due giorni di relax è la montagna infatti una delle sue passioni montagna che quotidianamente aveva l'orizzonte nello stabilimento di Villa Pere di Comunanza della Whirlpool dove lavora ormai da parecchi anni poi dicevamo l'ultimo sms di Paola in attesa scrive lei di partire i familiari sono in attesa di notizie la coppia doveva rientrare su Facebook eccola lì Paola Tomassini 46 anni tra le persone disperse insieme al suo finanzato Marco Vagnarelli all'hotel Rigopiano di Firandola Farindola scusate travolto da una slavina l'altra pagina sempre del Corriere Adriatico Marco pilota della Rainer innamorato della sua Jessica primo ufficiale a 25 anni finanzato da sempre con la giovane aubruzzese e tra i dispersi c'è anche lui questo 25enne nato a Macerata è originario di Selva Selva Lagni frazione di Gaglioli dal 2002 residente nella vicina Castel Raimondo nel paese tutti conoscono il suo viso pulito magnetico con quell'inconfondibile tratto asiatico ereditati dalla mamma cinese ma radicata nel macerettese da 26 anni finite le medie il giovane ha lasciato questo borgo per seguire il sogno di diventare un pilota e c'è riuscito perché Marco è pilota della Rainer e poi Emanuele Emanuele il receptionist qui la neve è bellissima dice una laurea in marketing un fisico da modello ma lui ha scelto Rigopiano Emanuele Bonifazzi con Barbara D'Urso che è una cliente VIP dell'albergo che ora non c'è più Emanuele Bonifazzi 31 anni ed era ed è dipendente di quell'albergo entriamo adesso nelle pagine interne quelle locali adesso apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico e in primo piano c'è la vicenda che ha coinvolto l'ex sindaco di Fano ed ex euro parlamentare Francesco Baldarelli finito sotto indagine dai fiamme gialle per un'attività che svolge all'Aquila dopo il terremoto per Baldarelli accusa assurda speriamo non sia disegno politico l'ex sindaco adesso si trova all'estero parla il suo avvocato Giulio Agnelli l'ex euro parlamentare avrebbe spinto con mezzi fraudolenti in vitalia ad erogare contributi paura per il sisma i figli più bravi dei genitori il dirigente a dare i plaudi al comportamento degli alunni Mirisola invece chiede una commissione questo per quanto riguarda ciò che è successo il giorno in cui si sono sentite le scosse di terremoto il giorno in cui c'è stato del caos del panico dove i genitori si sono precipitati nelle scuole per prendere i figli generando più confusione che altro i figli tutti tranquilli i più agitati erano i genitori che poi di conseguenza hanno agitato anche con la loro testimonianza con il loro modo di fare hanno agitato anche i figli e tutta la situazione ma la fede e pressa pochismo la politica siamo sempre sulla pagina di Fano la politica affossa l'aeroporto parole di fuoco da parte di Aguzzi stessa linea per gli altri consiglieri bilancio 2016 rosso da 100 mila euro colpo di scena dal computer di Ruggeri i dati potranno essere comunque recuperati troppo freddo la Caritas sta finendo le scorte strutture al completo serve vestiario pesante molti dormono all'aperto allora attenzione perché servono appunto queste queste cose quindi se avete del vestiario in più se avete un armadio che ormai di cose che non sapete più che fare oppure volete anche comprarne delle nuove magari di quelle che costano poco ma che servono ecco sappiate che la Caritas ha bisogno carnevalesca piccola perdita e grande attesa per le tre sfilate questa sera assemblea assemblea e relazione della presidente l'anno scorso fu un affare da mezzo milione tra le entrate 257 mila euro di contributi 88 mila dagli sponsor perdite ridotte a quasi 9 mila euro e poi c'è la commedia dialettale oggi domani e domenica e il paradiso non è per tutti debutta la sala Verdi al teatro della fortuna è un appuntamento che appunto c'è in questi tre giorni lo spettacolo sarà presentato oggi e domani alle 21 mentre domenica anche alle 5 del pomeriggio e poi anche alle 9 di sera dalla valle del Cesano grande paura per questo fuoco che ha coinvolto tra l'altro con un fumo piuttosto vistoso con una colonna di fumo nera densa molto molto vistosa garage a fuoco fumo in tutta la zona scintilla della stufa scatena un rogo a San Fortunato siamo a San Costanzo due dense colonne nere hanno avvolto la frazione del paese sul posto due camion dei vigili leggermente intossicato il proprietario distrutta un'auto transennata un'intera area le immagini se volete le potete vedere anche sul nostro telegiornale in onda in replica alle 11 e alle 13 e 30 poi danni da quantificare ho provato con i miei estintori ma c'era troppo vento in quel momento e quindi non sono riuscito dice il proprietario a spegnere l'incendio chirurgia parliamo di sanità a Pergola il primario ha firmato l'annuncio lo ha dato dalla regione Marche Minardi il dottor Gammarota sarà operativo a breve meno di un mese ed entrerà dunque in servizio il nuovo primario di chirurgia all'ospedale di Pergola finalmente dopo circa due anni di attesa l'ospedale avrà il suo nuovo primario si chiama appunto Francesco Vittorio Gammarota prenderà servizio nel reparto di chirurgia del nosocomio Santi Carlo e Donnino a partire dal 16 di febbraio andiamo sulla pagina di Urbino per il no alla fan Urbino spezzatino contro RFI la rete ferrovie italiana si mobilita la regione Biancani l'assessore dice la tratta deve essere deve rimanere intatta il governatore chiede un incontro urgente però da quanto pare a quanto pare sembra che già questo primo tratto sia stato venduto la società vuole alienare un immobile nelle vicinanze della stazione fanese Fossombrone Fossombrone recupera l'altare di San Filippo l'architetto Luzzi ma bisogna dice ragionare sull'uso di questo luogo poi ancora andiamo sulle pagine adesso sull'altra pagina sull'altro giornale il resto del Carlino il titolo è per Banca Marche eccola qua la fotonotizia in 18 per un crack addio Banca Marche chiuse le indagini a giudizio Bianconi i vertici ed alcuni dirigenti sotto invece la testata il parcheggio è atteso da mesi parliamo di degrado nel comune di Pesaro guardate una serie di crateri nell'area dove c'è questo parcheggio dietro la stazione il comune doveva sistemare la zona per i pendolari ma non è successo nulla l'area dunque resta piena di buche Cordella lo vedremo tra poco patteggia la prima bancarotta Fano l'ex patron di Chebolletta a giudizio mancavano 6 milioni di euro allora andiamo subito sulla pagina di Fano ripartiamo da qui Cordella Cordella che è l'imprenditore fanese di 48 anni che deve ancora rispondere di altri reatti fiscali ha chiuso un conto ma ne esce non esce ancora di scena Stefano Cordella ha patteggiato ieri mattina una pena a tre anni di reclusione per la bancarotta fraudolenta da 6 milioni di euro che a maggio scorso lo aveva fatto finire dietro le sbarre del carcere di Villa Fastigi per il noto imprenditore di 48 anni patron di svariate società di fornitura elettriche e gas oltre che di pubblicità la partita con la giustizia però non è la partita è ancora aperta dunque non è non è chiusa l'articolo è di Elisabetta Rossi Carnevale ecco che cosa accadrà quest'anno addio allo slogan bello da vedere dolce da gustare il Carnevale di Fano 2017 punta sulla creatività made in Italy Baldarelli eccolo qua l'intervista a Baldarelli che dice sono tranquillo non so di che cosa mi accusano l'ex sindaco ha un'azienda all'Aquila di cosa sono esattamente accusato onestamente non lo so dice lui e spero che i giudici del Tribunale dell'Aquila mi chiamino presto dice Baldarelli 61 anni ex sindaco della città di Fano dal 90 al 92 quindi euro parlamentare dal 94 al 99 e successivamente incarica il Ministero dell'Agricoltura dove ha ricoperto il ruolo di subcommissario dell'Unire Corse e Cavalli fino al 2005 e quindi qui c'è tutta c'è questa intervista che il giornale che Maurizio Gennari ha realizzato con Francesco Baldarelli appunto la cronaca da Petrano Petriano dipendente dell'ospedale muore alla guida Gilberto Fabrizioli di 62 anni stava tornando a casa il cordoglio degli amici e dei colleghi è morto l'addetto alla portineria dell'ospedale di Urbino un volto molto conosciuto e apprezzato nella comunità ospedaliera per il ruolo che ricopriva nella sanità pubblica prima in farmacia poi all'accoglienza all'ingresso dell'ospedale rientra l'allerta maltempo a Urbino invece strade libere Gambini il sindaco le vie sono state tutte pulite in tempi rapidi nonostante la rottura di due mezzi questa è la situazione di ieri a Urbino appena si a Cagli invece si torna appena si torna alla normalità arriva il conto esalato dei danni la viabilità è ripristinata ma ora c'è da pagare ci sono da pagare certamente anche le ditte che hanno lavorato per ripulire sgomberare le vie e le strade dalla neve sulla Fano Urbino la tratta ormai dismesse da moltissimi anni ma che comunque potrebbe essere riattivata tratta ferroviaria che collega appunto la città di Fano con quella di Urbino e viceversa Biancani niente spezzatino si insiste presso le ferrovie per la tutela della tratta direi che possiamo fermarci qui non c'è altro da aggiungere per quanto riguarda ah no c'è una storia l'ho lasciata per ultima in realtà ma è una storia che vale la pena assolutamente leggere una storia di vita pubblicata sul resto del carino di questa mattina ho bisogno di un lavoro per ridare la vista a mia figlia che è malata appello di un padre che ha donato i suoi tessuti il padre lo vedete questo signore nella fotografia Luigi Biagetti ha 49 anni e lotta per la figlia lo Stato sostiene i rifugiati dice ma non paga medicine e interventi per la mia Lara non chiedo elemosina ma dignità e un impegno Davide Eusebi ha raccolto questa storia l'ha valutata e quindi ha deciso di pubblicarla sul giornale di questa mattina sono stato più volte in comune dice lui a Pesero una umiliazione che non ha portato però a nulla lavorando potrei pagare le cure che servono per ridarle una speranza ed è questo signore pronto a tutto allora l'appello è se qualcuno ha mi rendo conto dei problemi e delle difficoltà di questo momento che ormai dura da diversi anni però se qualcuno ha un lavoro per questo signore che deve curare la figlia si faccia sentire è tutto grazie per averci seguito buona giornata ci vediamo stasera alle 20 e 30 grazie a tutti Autore dei sovrapposti